Eccoci insieme con Biancherosso a TV Sport, siccome abbiamo tante cose da proporvi, io direi di andare ad ascoltare subito cosa ha detto Romizzi oggi in conferenza stampa. Sentiamo il mediano del Bari. L'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile 50 punti e da quel momento in poi quando la mente è un po' più serena e tranquilla perché comunque ti sei riconquistato la categoria puoi tentare di fare qualcosa di meglio. Però pensiamo partita dopo partita. Ultimamente di coraggio ne abbiamo avuto, se leviamo un tempo ad Avellino dove comunque è stato evidente che ne abbiamo avuto poco, poi per il resto nell'ultimo mese e mezzo credo che abbiamo fatto un campionato di ottimo livello. L'ho detto diverse volte, io in quel ruolo lì credo di aver fatto la mia fortuna perché alla Reggiana in Lega Pro grazie al ruolo di Mezzala sono arrivato in Under 21, sono arrivato poi a conquistarmi una categoria superiore con il Bari. Poi è vero, da quando sono a Bari ho sempre fatto il mediano, però sarei stupido a dire che mi piace più fare la Mezzala rispetto al mediano, inevitabilmente mi piace più fare il mediano. Però sono disponibile e pronto a fare anche la Mezzala. Sicuramente verranno vogliosi di almeno portare via un pareggio qua in casa nostra, questo sicuro. Però noi ci dovremmo riscattare della brutta partita dell'andata e magari conquistare i tre punti. Sì, c'è bisogno di qualcosa in più, ma penso che anche il rullino di marcia tenuto nell'ultimo mese e mezzo comunque sia un rullino che potrebbe portarci in zone più alte della classifica. La speranza di Marco Romizzi. In effetti, nelle ultime sei partite il Bari ne ha perso soltanto una, tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, quella di Avellino. Dal punto di vista statistico può essere una media interessante anche in fine del coinvolgimento nei play-off, però sul piano del gioco non abbiamo mai visto una squadra, come dire, proiettata verso i primi otto posti. Insomma, mi sembra il potere di questo. Poi però devo anche riconoscere a Nicola un merito, cioè che con sano realismo ha lavorato soprattutto sul punto debole della squadra, che era quello di subire troppi gol. Negli ultimi partiti il Bari ha subito pochissimi gol, è questo dopo che ne beccamo cinque a Livorno. Probabilmente lì Nicola ha tracciato una linea per dire alla squadra, qui badiamo a prendere il meno gol possibile oppure non andiamo da nessuna parte. Devo dire che l'inserimento di Rinaudio e Contini ha dato, come dire, più tranquillità al reparto arretrato. E dico io, aggiungo anche quello di Guarna, che si sta confermando, senza nulla togliere a Donnarumma, però più sicuro del portiere che l'ha preceduto. Non so se siete d'accordo. Ma io, dire la verità, anche per quelli che dicono, eh vabbè, ma Guarna non è che è stato impegnato. Cioè, io non ho ancora capito perché Guarna a un certo punto si è trovato secondo portiere. Cioè, questo è il problema. Siccome veniva da un campionato più che dignitoso, e siccome Donnarumma non mi pare che sia buffon o qualcosa di simile, non ho mai capito perché a un certo punto Donnarumma è diventato il titolare. E' chiaro, secondo me è un ragazzo che dà più tranquillità all'intero reparto. Però a prescindere da questo, diciamo che finalmente abbiamo indovinato i due centrali. Contini, per esempio per me, anche col Pescara è stato il migliore in campo, cioè da sicurezza. Chiaramente, siccome le squadre si costruiscono dalla difesa, già questo è un elemento importante. Quello che Enzo io non riesco ancora a vedere in questa squadra è personalità. Cioè, non riesco a vedere una squadra consapevole dei propri mezzi, che vada in qualsiasi campo a imporre il proprio gioco. Che non è fluido, non è... Ora, per carità, ci vorrà tempo, sono giocatori che molti si incontrano quest'anno. Ma mancano dieci partiti alla fine del campionato. Ma perché, Enzo, io, secondo me il peccato è originale. Quando tu prendi una società, e questo è stato riconosciuto dalla società, non devi sparare. Perché il campionato di Serie B è così, stiamo già in Serie A. A chiaramente, per carità, in buona fede, perché è l'entusiasmo giovanile probabilmente. Ma chi prende una società, la prima cosa che deve dire, io imposto un progetto di tre anni, due, tre anni, probabilmente avrebbe avuto anche più consenso così, più realismo. E quindi, è chiaro, io quest'anno credo, e non per questo devo essere un gufo, una cosa... Credo che, con quello che è stato fatto fino ad oggi, per sano realismo, questa è una squadra di metà classifica, che però, per problemi altrui, o per sciocchezze altrui, potrebbe anche acciuffare un posto ai play-off. Ci è una cosa telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gianni, chiamo da Bari, saluto te l'Avvocato Monaco. Ciao, ciao. Servono 21 punti sui 30 disponibili, per avere una buona probabilità di arrivare almeno all'ottavo posto. Ricordo, 21 punti sui 30 disponibili. Devo ricordarvi anche che sabato c'è una bella iniziativa al Green Park, che ci vede in prima linea come Tele Bari, ma non è l'unica iniziativa in questo periodo, nell'ultima parte vi parleremo di un'iniziativa alla quale teniamo particolarmente, ma anche a questa, perché il messaggio che caldeggiamo è o bevi o guidi. Purtroppo anche le cronache degli ultimi giorni ci raccontano di incidenti evitabili, non solo magari perché qualcuno ha bevuto, ma perché distratta la guida. Oggi vedo gente che usa addirittura il telefonino non per parlare al telefono, guida e alla testa bassa per inviare dei messaggi, credo che sia veramente lucidiale. Magari anche mentre porti l'autobus come quello che ho beccato io oggi, sono perso, si vedono cose inenarrabili, gente che cerca di mandare i messaggi, gente con due telefonini contemporaneamente, ma quello dell'alcol è un problema serissimo, io lo vedo soprattutto nelle fasce di età più giovani, quello che magari ai tempi nostri era il problema del fumo, per loro invece è l'alcol, cioè bevono in maniera... E allora questo è il messaggio che parte anche da Telebari. Ed è tutto per oggi, grazie come sempre alla amica e collega Michele Salomone, ciao Michele, grazie, grazie, noi ci ritroviamo domani con il Bianco e il Rosso TV Sport, ciao! Grazie Michele, ma che scherzi, grazie a te! Non ci va a fare, ma ci abbia un graffino, Michele, o bevi o guidi. Oh Mosco, allora, botto di gente, serata proprio spacca sto, distrutto, però sono contento. Comunque, ma finisco sto cocktail e ce ne andiamo a dare. No, basta, frateu, basta. O bevi o guidi, perciò vi chiedi. Non so che tina riesce, no? Ma non c'è, mi senti. O bevi o guidi. Che che si ha qui? Ci vediamo il 28 marzo al Green Park, ore 9.30. Ancora fai che non vieni. E allora, Telebari, Demodè e Bari Football Club 1908 in prima linea per questa iniziativa che ruoterà intorno ad una partita di, anzi è un triangolare di calcio, ma che ha un significato molto più profondo perché purtroppo l'alcolismo, ma in generale la combinazione dell'alcol e della superficialità della leggerezza può essere, può avere degli effetti veramente devastanti e drammatici. Devo dire che Michele Salomone si è abituato ormai a fare l'attore, ha fatto decisamente molto meglio di me, ma fondamentalmente è uno degli attori protagonisti del film la straordinaria stagione fallimentare. Quindi davvero Michele ha scritto un libro, ha scritto un libro, è lanciatissimo. Infatti, è lanciatissimo. C'è un amico in linea, pronto? Buonasera, sono Lino Sonno, saluto lei e l'avvocato. Ciao, Lino. Quello che volevo intervindere e dirle è che noi siamo partiti da una situazione svantaggiosa per parte di Banja e per l'inesperienza del dottor Paparesta, che ha fatto grandi cose per il Bari. Io sono un grande tifoso. Per me quello che non va adesso nel Bari è bell'uomo. È bell'uomo. Abbiamo perso il secondo di Vicenza, abbiamo perso il primo gol con la Verini con un pallatorto in difesa, abbiamo perso con il Stato André Catania. È bell'uomo. Non perché Lino non vale, ma non è pronto per il suo centrocampo. Grazie, grazie per il tuo intervento. Purtroppo, diciamo, la conferma che nessuno è profeta in patria perché i tifosi hanno additato a lungo Caputo. Io senza nulla togliere l'Ebagua ricordo che l'Ebagua ha segnato due gol in nove presenze entrambe nella stessa partita. Se non l'avesse fatti Caputo ci sarebbe stata molto più baccano. Purtroppo, quando uno è barese, quando uno è d'altamura, spicca di più. A Bari poi è sempre stato così. Devo dire che Bell'uomo non è neanche aiutato dalla posizione in campo. Bell'uomo sta giocando a 30 metri dalla porta. Bell'uomo è un trequartista che ha ben altre caratteristiche. E qui, proprio nell'ottica, credo che sia l'emblema, del Bari di Nicola che in questo momento vada innanzitutto a non prendere, a fare attenzione, diciamo così, alla fase difensiva, io Nicola Bell'uomo non l'ho mai visto giocare così lontano dalla porta. Non so se concordi. Sì, non si è inserito ancora. Secondo me non ha ancora capito bene la sua posizione in campo. Oppure quella che gli è stata assegnata non la sente sua perché si vede che è in difficoltà. Le qualità tecniche Bell'uomo ce le ha. Il problema è che non riesce proprio a ingranare. Fece quell'assist a Boateng, quello del gol a Modena, che fu delizioso. Però anche col Pescara io ho scritto appunto che il migliore in campo continui, peggiori Bell'uomo si vedeva, era proprio un pesce fuori d'acqua. Però io aspetterei ancora, nel senso non che dieci partite mancano mai finiti il campionato. Però ti aspetti qualcosa di più. Però qualcosa di più anche in prospettiva l'anno prossimo. Perché Bell'uomo le qualità ce le ha. Non per niente è un giocatore che era entrato nell'orbita di squadra di Serie A. A proposito di Bell'uomo, una piccola curiosità. Nel settore giovanile della Provercelli, o meglio la primaria della Provercelli, gioca il cugino Cianci, quindi insomma è una specie di... Anche se Cianci non è solitamente fra i convocati, non è mai stato convocato in prima squadra, però la curiosità è che c'è un cugino di Bell'uomo che gioca nella primavera della Provercelli. Allora, pubblicità, poi torniamo insieme e vogliamo dare ancora un po' di spazio alla meravigliosa stagione fallimentare che ha vinto un premio a Berlino. Vi mostreremo il trailer del film, ma dopo la pubblicità. Grazie. Grazie. Grazie.